...quindi in ehm... ...a 5... ...chi interviene come... ...5... ...a 5... ...ve lo capite gatto! ...ma per l'esame! ...ma per l'esame! ...ma per l'esame! ...ma per l'esame! ...no... ...allora... ...seglie il decreto... ...signore del nome... ...ma non me sa che il dossier... ...signore al cindro del suo provo.. ...posto a me! ...ha il proprio patente! ...ha il proprio patente! ...allora signore in merito al tuo intervento sulla commissione delle redenze... ...come il signore presidente di Unergista... ...io c'erano di domicare e raccontare la verità... ...però se per tutto... ...un essere in filo... ...ha una professione che ha fatto a me... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.